Sia lodato Gesù Cristo La differenza dallo stato attuale qui sulla terra dove abbiamo provenienze culturali, geografiche, linguistiche e quant'altro completamente differenti fra di noi e dunque il rischio è quello di mettere insieme una cozzaglia di genti, di persone, di popoli senza nessun tipo di unità, senza nessun tipo di scopo se non quello di convivere su uno spazio, su questa terra. Ma egli dice, San Paolo, che noi non siamo né ospiti né stranieri. Che cosa siamo dunque noi? Simpati bene, la definizione di San Paolo riguarda ciò che noi siamo nell'intimo come persona e riguarda la nostra destinazione oltre questa terra. Dunque qui su questa terra noi siamo come pellegrini in un percorso verso un'altra terra, verso un altro regno. E dunque qui siamo di passaggio e dobbiamo vivere con la certezza, noi che siamo i credenti, noi che facciamo parte del corpo mistico di Cristo, dobbiamo vivere con la certezza che il nostro esistere in Cristo è un'esistenza ordinata che ci dà una dignità dell'essere, di ciò che siamo e una finalità. Siamo infatti pietre vive, siamo cellule vive di Cristo, ben ordinate, con un capo e tutto quanto nella magnificenza della luce porta l'amore e il bene a tutti coloro che appartengono a questa comunità. Questa comunità dunque è già qui ora, come noi sappiamo, perché la nostra fede ci fa appartenere al corpo di Cristo e alla città del cielo, ma la nostra destinazione finale è futura. Quindi non è qui che si gioca il regno sulla terra. Chi pensa al regno sulla terra è preoccupato di stabilire delle convivenze di genti, di popoli, in qualche modo relativamente a quello che è la vita materiale e basta, preoccupandosi della molteplicità, della diversità. I problemi sono alle porte, sono dentro casa nostra, sono dappertutto sul mondo. Quello che invece ci caratterizza è una unione profonda di anime, di spirito, con una unica direzione che è data dallo spirito del Cristo, che vive in noi, vive in mezzo a noi e ci guida verso una meta alta. Quindi il cristiano, il credente, il battezzato, è un pellegrino in questo mondo in attesa di entrare nella patria definitiva. Pellegrino vuol dire che tutto quello che viene organizzato qui sulla terra non può essere pensato come un bene definitivo, ma un bene provvisorio. E che la finalità vera non è approdare a questa o a quella terra, ma è approdare alla città celeste, al regno di Dio. Per questo, come pellegrini in viaggio, tutti ci si aiuta per entrare in questa terra nuova, che è quella vera, che è quella che dura, che è la città celeste, in cui tutti quanti noi avremo un nome, una funzione, saremo abitati da Dio, saremo coordinati fra di noi, ci ameremo e non avremo più bisogno di confrontarci con conflitti o altro. Questa categoria del pellegrinaggio crea in noi una situazione anche di disagio. Dico disagio perché tutto mi appartiene, uso le parole di San Paolo, ma vivo come se nulla avessi. Dunque, le pretese di un mondo che non crede su di me o sugli altri o su questo mondo, o che mi obbliga a fare certe scelte o altro, mi mettono a disagio. Mi mettono a disagio perché ciò per cui noi viviamo è un mondo di valori che viene dato da Dio e non dagli uomini sulla terra. Mi mette a disagio ogni normativa terrena che si oppone fortemente e chiaramente alle normative di Dio, perché non posso vivere diversamente qui sulla terra da quello che è la vita nel Regno di Dio, perché il Regno di Dio è qui vicino a noi, già vive in noi in maniera provvisore. Dunque, io sono a disagio in un mondo che mi obbliga a credere o non credere, a fare cose che non vorrei fare, a vivere in un modo con dei valori che per me sono dei disvalori e questo mi pone in una situazione critica e al tempo stesso non di opposizione, se non di difesa di ciò che sono i miei valori, senza offendere né ferire alcuno. Ma sono a disagio perché vedo un mondo che è organizzato e vive con un'onda che è esattamente contraria a quello che è il vento dello spirito che mi porta altrove. Siamo chiamati ad essere segno di contraddizione, segno di questo disagio interiore per dire che c'è altro in questo mondo, non le verità omologate da un mondo che ci vede come unità di produzione, di servizio o unità inutili, senza un nome e senza un valore, ma persone che vivono per l'eternità, perché abitate per l'eternità da Dio. E questo io lo devo annunciare al mondo. E per questo il mondo ha la caratteristica di essere contro i valori di Dio. Ma siamo annunciatori di un mondo altro, di un altro regno, di un'altra cittadinanza, quella vera, perché siamo portatori dello Spirito Santo, che può essere il bene di tutti se questo bene viene liberamente accettato. Dio vi benedica.